A riaccendere la polemica sull'installazione del T-Red Roseto è l'ex sindaco Sabatino di Girolamo, che d'avvocato ha deciso di prendere difesi di un suo concittadino che in poco tempo ha collezionato ben oltre 30 multe. Questo per essersi fermato sopra la linea bianca di arresto in corrispondenza del semaforo all'incrocio tra la Statale 16 e Via Santa Petronilla, dove è installato il sistema. Per 33 volte, accompagnando la propria moglie al lavoro tutti i giorni, due volte al giorno, per 33 volte è stato sanzionato semplicemente per essersi sovrapposto, aver leggermente superato la linea di arresto. È un'applicazione, ripeto, assolutamente pedante e illogica della normativa, quell'incrocio è estremamente ampio. La legge parla di porsi in corrispondenza della linea di arresto, questo cittadino non ha messo in pericolo nessuno ed è rimasto in corrispondenza della linea di arresto, però il T-Red Inesorabile lo ha sanzionato per 33 volte, in due casi, a circa due minuti di distanza l'uno dall'altro, anche questo non si capisce, probabilmente è sindaco di un malfunzionamento. È uno di quei semafori killer di cui le cronache sono state piene in passato, bisognerebbe naturalmente ricondurlo alla legge e ricondurlo alla moderazione perché così i cittadini vengono rovinati per veramente poca cosa. Quasi, possiamo dire, 2.000 euro di multa in più, i punti della patente non ci sono assolutamente più. La patente viene persa da un cittadino che accompagna la moglie, che è priva di patente in questo freddo, con queste temperature, accompagna la moglie la mattina presto al lavoro, quindi patente persa e in più circa 2.000 euro di sanzione se pagata entro 5 giorni, sanzione che questo cittadino non può pagare perché notoriamente è un soggetto svantaggiato. Insomma, un disastro, cercherò di aiutarlo facendo opposizione al prefetto, sperando che il prefetto tenga conto della particolare situazione e annulli questo blocco di 33 sanzioni. Nei giorni scorsi inoltre è stata presentata una mozione da parte della consigliera Teresa Ginobile per chiedere l'installazione di un contasecondi al semaforo del Tiredde. Sarebbe assolutamente utile perché ormai costituisce un terrore per tutta la cittadinanza, molto spesso si fermano anche quando non è dovuta e quindi creano anche pericoli per la circolazione in concreto. Molta gente addirittura passa sotto il fiume in una via alternativa, seppur disagevole e piena di buche, mi dicono i cittadini, perché temono gli effetti di questo semaforo.